Pomeridiano a Bogliasco per la Samp che si prepara la partenza per il Belgrado in programma domani mattina. I blucerchiati si imbarcheranno sul Ciarde per la città serba alle ore 10.30 dall'aeroporto di Genova. Una volta giunti nella città bianca, Mazzari e i ragazzi si sistemeranno in albergo per allenarsi poi allo Stadio Partizan alle ore 18. Prima della seduta in terra serba parlerà con i cronisti Walter Mazzari nella tradizionale conferenza stampa della Vigilia. Per quanto riguarda il lavoro odierno, la Samp Doria si è divisa tra sala video e campo con la visione da parte del gruppo di videocassette in preparazione della sfida di Coppa UEFA. Sull'erba del Mugnaini poi la seconda parte della sessione odierna. Tutti disponibili gli effettivi della Rosa, fatta eccezione per i soliti Palombo e Campagnaro, alle prese con i rispettivi infortuni. In un momento così delicato a livello di classifica e risultati, il Doria è certamente sotto esame. Nella settimana iniziata ieri, sancisce uno spartiacco importante nell'economia dell'intera stagione. Mazzari e i ragazzi stanno per affrontare due impegni forse decisivi in prospettiva. Due impegni che, dovessero andare bene, potrebbero risollevare in maniera consistente morale e convinzione del gruppo. Stiamo parlando naturalmente della gara di Coppa UEFA in casa del Partizan, in programma giovedì sera a Belgrado, e della sfida di campionato contro il Bologna, calendario domenica pomeriggio a Marassi. Della situazione attuale ha parlato oggi il presidente Riccardo Garrone, che ha voluto avvicinarsi ancora una volta alla squadra per dargli il suo contributo e tranquillizzare l'ambiente, senza nascondere naturalmente delusione e preoccupazione per una classifica tanto bugiarda quanto deficitaria. È un momento delicato, ha detto il numero uno del club blucerchiato sulle pagine del sito ufficiale della Samp. La squadra si trova alle prese con una situazione classifica tutt'altro che esaltante, ma è un aspetto questo che certamente preoccupa ma non crea allarmismo. L'infortunio a catena ed un calendario non troppo benevolo ai nostri confronti non ci hanno certamente agevolato, ma la coesione del gruppo è un dato indubbiamente positivo da cui ripartire. Poi la ricetta del presidente per uscire dalla crisi di risultati. A tutti i componenti della famiglia blucerchiata, prosegue Garrone, ai media e anche a coloro i quali ci circondano, chiedo solo senza ipocrisia e senza inutili allarmismi di stare vicino alla squadra con la serenità e l'equilibrio che da sempre ci contraddistingue. I nostri straordinari tifosi invece non posso chiedere nulla. Della situazione in cui verso oggi la Samp ferma a 4 punti dopo 7 giornate, ha parlato anche Luca Castellazzi, rientrato in squadra proprio domenica pomeriggia a Milano, dopo il lungo infortunio rimediato 6 mesi fa a Reggio Calabria. Il portiere Doriano si è soffermato sulla sfortunata trasferta di San Siro e sul prossimo futuro concentrandosi in particolar modo sulla partita di giovedì a Belgrado. La prestazione è positiva, tanto che aspettavo di rientrare, erano passati praticamente 6 mesi dall'infortunio, è stata spero la prima partita di una lunga serie, quindi dispiace che sia coincisa con una sconfitta, è un campo difficilissimo, però secondo me la Sampdoria ha fatto una buona gara. Sì, diciamo che in questo momento è un momento delicato del nostro cammino, però inizia l'avventura del girone di Coppa UEFA, è già su un campo difficilissimo, quindi già lì dovremo affrontare le migliori di moda della partita. Mentre domenica invece serve la vittoria per rilanciarci in campionato, perché comunque la vittoria ci manca, ci mancano i punti, soprattutto in funzione del gioco che abbiamo messo in campo nelle partite, perché le squadre che ci hanno messo sotto non ce ne sono state, e quindi ci manca qualche punto, cercheremo di recuperarli il prima possibile a partire da domenica. No, a togliere, secondo me no, può essere un buon viatico, un buono stimolo per rilanciarsi anche a livello emotivo, di morale, perché secondo me è un buon risultato in Jugoslavia, potrebbe darci ancora più coscienza dei nostri mezzi, più umore, più possibilità di giocare la nostra partita contro il Bologna con Consci che siamo una squadra di alto livello e diciamo che con la posizione di classifica non ci compete. Per chiudere ricordiamo ai tifosi blu cerchiati che la partita di Coppa UEFA Partizan Belgrado-Sampedoria sarà trasmessa in pay-per-view dall'emittente digitale Conto TV visibile sul canale 959 di Sky. I possessori di Smart Card Sky dovranno chiamare il call center di Conto TV all'199 24 88 24 e fornire il numero della propria tessera a cui dovranno far seguito i dati della carta di credito personale. In alternativa è possibile acquistare una ricarica Conto TV del taglio minimo di 20 euro la ricarica reperibile nei migliori negozi di elettronica e tabacchi e in tutte le ricevitorie Sisal. Maggiori informazioni sui siti www.conto.tv e www.sampdoria.it